Allora, allora, i nostri amici docenti sono il professor Conte, il professor Bennato e il professor Liotta. Andiamo a Catania. Professor Bennato, l'offerta della settimana, poi Liotta e poi Conte. Bennato, Davide. Eccomi. Allora, è un'offerta di una settimana in cui appunto si vede in maniera piuttosto consistente la presenza italiana e questa cosa non può che fare piacere, soprattutto diversificata in varie trame, varie pellicole, soprattutto generi molto diversi l'uni dagli altri. Per quanto mi riguarda, diciamo così, io dovrò scegliere più che altro per affetto, quindi la prima cosa che va è il mio interesse nei confronti della fantascienza. Quindi la mia prima scelta in assoluto è The Animal Kingdom, perché mi piace molto l'utilizzo della metafora delle mutazioni, del mutante, per rappresentare il cosa vuol dire gestire nell'età contemporanea un'identità che può essere non conforme a quello che accade nel mondo circostante. Quindi sicuramente la metafora dell'identità, la metafora del diverso, la metafora dell'altro, rappresentata attraverso la mutazione corporea, quasi cronenberghiana delle carni dei protagonisti, secondo me è anche un buon modo per riflettere utilizzando la cifra stilistica della fantascienza su questi temi. La seconda scelta, sempre in ambito fantascientifico, è l'impero, perché mi piace da morire l'idea di una parodia, non parodia, delle grandi saghe tipo Star Wars o tipo Dune, ambientato però nelle campagne di francesi, in cui appunto c'è un gioco ironico su questi temi, soprattutto c'è sempre la divisione fra bene e male, ma è un bene e male che si confrontano anche riflettendo in maniera surreale su quelli che potrebbero essere appunto i conflitti in quest'epoca. Poi c'è il documentario su Berlinguer, prima della fine, per un motivo molto semplice, perché Berlinguer è stata una personalità politica straordinaria e che ha lasciato la sua impronta anche nel modo con cui i temi della sinistra sono declinati e secondo me dovremmo cominciare a riflettere su questi grandi personaggi della politica del periodo d'oro, degli anni 70, degli anni 80, per capire anche cosa stiamo diventando come Paese, soprattutto che tipo di orizzonte politico si sta delineando. E poi ovviamente stiamo parlando di un grande lutto collettivo popolare, quindi la mia anima al sociologo non può che essere affascinato da questa interpretazione. E infine c'è Bad Boys, Ride or Die, perché io sono amante diciamo così dei film fracassoni, soprattutto nella variante Michael Bay, quindi quella del 95 in cui iniziò questo franchise. Però devo dire la verità, in questa è ormai diventato un esercizio di stile l'utilizzo in questa pellicola degli scontri e dei conflitti, quindi secondo me è anche un buon modo per vedere cosa è diventato nel 2024 il cinema d'azione basato su appunto del body movie, cioè il cinema delle coppie. Professor Bernato sulla classifica, Davide. Una classifica che secondo me rispecchia molto le diverse stratificazioni marketing del tipo di pubblico cinematografico di questo periodo, soprattutto se prendiamo le prime tre posizioni. In primo posto c'è appunto me contro te e quindi i bambini. Al secondo c'è Kinds of Kindness che ovviamente si rivolge invece a un pubblico un po' più raffinato, un po' più cinefile. E al terzo c'è The Watchers per gli appassionati di horror. Quindi è sicuramente un mix fra una classifica che sta arrivando all'estate e che si intreccia però col tipo di segmentazione di mercato del pubblico cinematografico di questi ultimi anni. Stefano, Stefano Curone, sentiamo un attimo.